Cosa che hai detto? Vuoi che mi trasferisca in un'altra camera? Stai scherzando? Adesso basta, veramente sono stanca. Che significa? Vuoi che ci separiamo? Significa che per il momento non voglio più dormire con te, ok? Nient'altro! Catarina, la mia storia con Laura ormai appartiene al passato, dai, per favore. Peccato che non me lo dimostri. Quante volte mi devo ancora scusare? Se vuoi che condividiamo lo stesso letto, devi dimostrarmi di pensare solo a me. È quello che faccio sempre. Dobbiamo stare un po' lontani. Non possiamo continuare in questo modo. Ma noi due ci amiamo, Catarina. No, per piacere, non possiamo andare avanti così, lo sai. Devi fare un po' di chiarezza sui tuoi sentimenti. Mi dispiace, ma ti devo interrompere. Cristian, devo andare. Allora, non ho proprio nessuna chance. Sai, stupido. Ah sì? Hai proprio deciso di farmi incontrare la tua famiglia. Non lo so, ci penso ancora. Cristian, c'è qui la posta. Scusate, non volevo disturbare. No, nessun disturbo, dimmi. Volevo solo consegnarti queste. Ah, grazie. Va tutto bene? Sì, certo. Va benissimo. Hai avuto notizie riguardo a quel posto? No. Credo sia un buon segno. Staranno valutando. Lo penso anch'io. Devi avere fiducia in te stessa. Aiuta molto. Sì, appena so qualcosa ti informo. Beh, buona giornata. Ho l'impressione che Ellen non sia contenta di vedermi qui. No, non preoccuparti. Tu non c'entri nulla. È di cattivo umore perché non ha ancora trovato lavoro. È solo per questo? Beh, per lei non è facile vederci insieme. Ma non lasciamoci influenzare. Non mi importa di far notare agli altri che stiamo bene. Nemmeno alla tua famiglia. Ma l'idea non ti rende un po' nervoso? Ti presenterò ufficialmente a mio padre. Mandami pure al massacro quanto ti pare. Tanto sono preparato. Meglio così. Tiro fuori la camicia con l'abito scuro e comincio a stirarli? Sì, è una buona idea. L'incontro potrebbe essere prima di quanto credi. La gente si accorgerà di quanto sono felice. Sì, è probabile. Sto sempre a sorridere da quando sono con Christian. Vorrei che avessimo un posto tutto per noi. È una bella cosa che si preoccupi per Ellen, perché non è il tipo che taglia la corda quando ci sono dei problemi. Mi piacerebbe che Alexander accettasse la nostra storia. Magari questa riunione di famiglia sarà l'occasione giusta per farli avvicinare. Ciao, zia Elisabeth. Ciao. Ti disturbo? No. Che stai leggendo? Niente di importante. È un vecchio diario. Bello questo posto, vero? Già. Piaceva anche a mia madre. Allora, hai deciso a partire oggi? Sì, e mi spiace. È davvero meraviglioso qui. Potresti fermarti ancora. Sei la benvenuta, lo sai. Sì, lo so, grazie. Comunque tornerò presto. A che ora hai l'aereo? Hai fatto bene a ricordarmelo. Non ci pensavo più. Che ore sono? Le quattro e mezza. È meglio che vada subito in hotel. L'autobus per l'aeroporto parte tra meno di un'ora. Arrivederci, Alexander. Auguro a te e a Catarina di essere sempre felici. Salutala con affetto da parte mia. Sì, va bene. E io ti auguro tanta, tanta serenità. E fa buon viaggio. Grazie. E mi raccomando, cercate di restare uniti. Tu, Robert e vostro padre. Va bene. Alexander, aspetta. Avrei intenzione di invitare te e Catarina domani sera. Ah? E c'è qualche motivo particolare? È per una cena di famiglia. A Werner piacerebbe conoscere Christian, così pensavo di farvi incontrare tutti. Mi piacerebbe, ma non garantisco. Ti prego, dai, dimmi di sì. Non so se Catarina è disponibile. Molto probabilmente non avrà tempo. Puoi venire anche da solo. Senti, gliene parlo, ok? Ma non ti posso promettere niente. Al momento abbiamo un po' di problemi. Sei io presente, stamattina è venuta a trovarmi. Dè. Questa faccenda del bacio è diventata una specie di ossessione per lei e non va bene. Dovete chiarirvi, però non domani sera, dai, per favore. Allora, vieni. Io non lo so. Adesso non mi va di frequentare gente, scusami. Alexander è una cosa davvero importante. Per tutti noi, intendo. Può essere un'occasione per riavvicinarci. Lo pensi davvero? Saremo tutti insieme. Potrebbero nascere delle discussioni. Vorrei evitare. Non potresti accettare il fatto che Christian è il mio fidanzato? Non ho niente contro di lui, davvero. Bene. Così non hai scuse per non venire. Accidenti, perché? A te non posso mai dire di no. Perché sono la tua sorellina, mi sembra evidente. Fantastico. Sono riuscita a convincerlo. Ora devo solo fare in modo che la serata vada bene. Purtroppo è così. Non possiamo farci niente. Sì, mamma. Ti richiamo dopo, Alexander è appena arrivato. Sì, ciao. Hai fatto sapere a tua madre che mi hai mandato via? Sì, ma parlavo di Maxime. È proprio necessario che tu vada sempre a raccontare a tua madre i problemi che abbiamo. E tu che cosa fai? Tu non corri continuamente dalla tua amata sorellina a raccontarle che stai male? Senti, per favore, non ho nessuna voglia di litigare, ok? Alexander, sei tu che sei entrato e hai cominciato a stuzzicarmi. Sì, sì, hai ragione. Io ho sbagliato, scusami. Vuoi bere qualcosa? No, grazie. Laura ci ha invitati per domani sera a cena. Vuole presentare il suo fidanzato a tutta la famiglia. Non penserai che abbia intenzione di venire. A lei farebbe piacere che tu ci fossi. Non ho voglia di recitare la parte della moglie felice davanti a Laura e al suo fidanzato. Va bene, allora ci andrò da solo. Buon divertimento, sarà una serata fantastica. Grazie. Vado a dormire. Alphonse mi ha fatto preparare una delle camere degli ospiti. Buonanotte. Sono già un po' nervosa. Domani a quest'ora saremo tutti qui insieme. Per fortuna sono riuscita a convincere Alexander. Non sarà una serata facile per lui. Spero solo che alla fine Christian sia accettato. È uno che va d'accordo con tutti e di solito fa una buona impressione. Andrà tutto bene. Deve andare tutto bene. Ti disturbo? Mhm. È stata una giornata pesante, meno male che è finita. Che è successo? Il signor Zombie Claire mi ha fatto la predica e mi ha detto che devo piantarla di spargere voci in giro. Spiega un po' che non sono aggiornata sulle novità. Tu non ci crederai. Ho visto Maxime in paese in uno stato pietoso, capelli sporchi, vestito come un poveraccio, ma quel che è peggio è che stava frugando nell'immodizia. Ma dai, sei sicura che fosse Maxime? Certo che sono sicura. L'ho chiamato e poi quando ha visto che ero io è scappato. Perché dovrebbe andare in giro vestito da barbone? Ha tutti i soldi che vuole da sua madre. Ho capito, non mi credi. Può capitare a tutti di scambiare una persona per un'altra. Sì, hai ragione. Dai, non ti offendere. Ma figurati tanto a te che cosa importa di me? Ti importa solo di Christian? A proposito, cosa fai domani sera? Organizzo una cena. Ci saranno Christian, Alexander, Berner. Ma che bel gruppetto. Preferisco evitare, grazie. Quello che dico non va mai bene. Ma perché le cose non possono tornare come erano prima? Allora andavamo d'accordo. Ci divertivamo. Potevamo parlare di tutto. Ora invece è impossibile. Avanti. Laura. Che bello vederti. Posso fare qualcosa per te? Io voglio fare qualcosa per te. Che ho fatto per guadagnarmelo? Non lo so. Dai, apri. Vediamo. Un invito... a cena. Vorrei presentarti il mio fidanzato stasera. Oh, stasera? Eh, sì. Verrei volentieri, Laura. Io stesso ti ho chiesto di presentarmelo. Ma è probabile che questa sera abbia un impegno. Forse ho un appuntamento importante a Monaco. Ti prego, per favore, rimandalo. Ci tengo tantissimo. Anch'io? Cosa credi? Mi piacerebbe vedere se quest'uomo è la persona adatta a te. Ok, d'accordo. Vengo. Provo a liberarmi. Vedo di rimandare l'impegno. E se non ci riesco... Allora vuol dire che andrò via un po' prima. Mi basta che tu ci sia. Devo ancora chiederlo a Robert. O hai qualcosa a incontrare? No, assolutamente. Ma non credo proprio che vorrà venire. Poco fa abbiamo avuto un'altra piccola discussione. Cercherò di convincerlo. Con Alexander ci sono riuscita. Ottimo. Sono convinto che Alexander e Christian si intenderanno molto bene. Sta tranquilla. Sarà sicuramente una splendida serata. Grazie ancora per l'invito. Sono veramente contento.